bella a tutti asfaltoni benvenuti sulle on tube salutiamo il nostro amico marco e niente in questo video andiamo a vedere una piccola particolarità del dell'evento declash una particolarità che magari non è non salta subito all'occhio che è quella che praticamente nel declash c'è un negozio a parte un po come per il syndicate solo che questo negozio lo troviamo sempre all'interno del negozio classico e non a parte infatti andiamo nel negozio iniziamo a scorrere un po verso destra e arriviamo qui eccolo qua il negozio declash le scorte qui c'è scritto che si rinnovano ogni qui ora mancano quattro giorni che vuol dire adesso ad esempio andiamo a vedere con quest'auto posso prendere cinque progetti tra cinque giorni potrei prendere altri progetti e andiamo a vedere entriamo qui 260 sembra che possiamo prendere questo progetto anche se qui vediamo che come monete e come gettoni abbiamo zero allora questo negozio come formato è formato da monete clash e gettoni clash le monete corrispondono un po ai crediti i gettoni corrispondono un po ai token le monete le ottieni giocando a the clash o acquistandole il negozio e i gettoni invece li ottieni vincendo il clash ora cosa è successo e c'è stata la prima fase di del clash e molti team l'hanno vinta ma non sono stati elargiti questi e queste monete quindi di scambio invece qui nel negozio vediamo che sono disponibili per l'acquisto con soldi veri le monete invece dei gettoni non ce ne traccia non ce ne traccia e niente invece se entriamo qui nei gettoni ci dice gettoni clash insufficienti qui quindi sembra quasi che le monete ci siano state assegnate però non è così perché andiamo a premere ci rimanda al negozio e quindi ci fa ci porta ad acquistare la moneta e questo è un bel mistero perché segna a zero probabilmente è un problema o bug perché nessuno ha riscosso questi queste monete questi gettoni e nessuno riesce quindi a fare acquisti qui nel negozio del clash se non tramite monete acquistate con valuta reale andiamo a vedere un'altra piccola particolarità del negozio qui siamo e appena ci riesco ad andare eccoci qua qui non c'è solo questa auto infatti noi clicchiamo qui scegli auto abbiamo queste cinque auto da poter scegliere sono una per ogni livello quindi partiamo dal livello d fino ad arrivare a livello s e per ognuna di queste se noi la selezioniamo la selezioniamo ci fa acquistare progetti che ci mancano in questo caso abbiamo di pezzi di importazione epici niente purtroppo o non ho abbastanza monete oppure non ne ho nessuna però lì avete visto zero anche voi se andrete a controllare sia che abbiate vinto il the clash oppure che l'abbiate perso avrete zero anche perché le monete ci devono pure essere perché le ottieni giocando e non vincendo invece i gettoni anche perché ha vinto non ci sono quindi andavamo qui nel negozio dicevamo possiamo scegliere tutte queste auto ma andiamo a vedere ovviamente aumenta il prezzo all'aumentare della classe delle auto per la gesco abbiamo anche la possibilità di prendere la chiave con appena 31.600 oggettoni e magari col tempo riusciremo a metterli da parte e a comprarla alla chiave anche se non abbiamo la più pallida idea di quanto sia il premio per la vittoria relativa a monete e crediti quello che mi viene da pensare comunque una piccola parentesi vedete che quasi possono potrebbero comprare dei progetti quindi cinque progetti alla volta poi con il refresh altri cinque progetti eccetera dicevo quello che mi viene da pensare è che ci sia un errore a livello di programmazione per cui dovevano essere questi i premi quindi anziché 250 token gettoni classici dovevano essere forse i gettoni per il declash anche se come scritto lì vinci declash e qui invece li danno anche a chi non vince quindi basta partecipare come premio di consolazione purtroppo non sappiamo dirvi altro perché al momento questa è la situazione i premi quindi non sono stati diciamo consegnati anche a chi ha vinto e gli acquisti non si riescono a fare se non andando ad acquistare appunto monete clash con valuta reale e appena avremo notizie magari vi aggiorneremo su questa cosa appena avremo novità mi raccomando se questo video vi è piaciuto un bel mi piace condividetelo con i vostri amici nei vostri social non dimenticate di lasciare un commento e come sempre se mi va vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale non dimenticate di cliccare la campanella per non perdere i nostri aggiornamenti ciao a tutti